Fede di Cangeli qui al Village 30 settembre ci sarà un'ulteriore presentazione del suo libro che ormai è un manifesto di questa associazione Noi, giornata di sport e cultura. Sì è una giornata piena dove l'associazione Antimafia Noi che è l'associazione di cui sono presidente onorario ha dedicato a Ostia che merita di rialzare la testa come attraverso la cultura che è la presentazione di questo libro la musica, il concerto al porto e lo sport, una partita per i bambini dove nei luoghi simbolo dove ha comandato e fatto affari la mafia per anni. Ecco noi siamo qui nei loro posti e siamo tantissimi e stiamo rialzando la testa. Rapidamente tantissimi, c'è sempre più gente nei tuoi appuntamenti che organizzi con questa associazione ovviamente questo vuol dire che non ti senti più sola. Assolutamente no, lo vedete insomma anche voi è pieno 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 di gente non immaginavo veramente questa presenza massiccia di Ostia quindi sono veramente soddisfatta, è la chiusura di un percorso di solitudine e l'inizio invece di un percorso insieme. Grazie Federica. Grazie a tutti.